Festa in casa a Maranto, le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile hanno così augurato buon compleanno al presidente Massimo Anselmi. Una grande sorpresa, un bel gruppo, quest'anno abbiamo veramente creato qualcosa in più, sono veramente soddisfatto di come reagiscono a tutte le situazioni, veramente una bella squadra. Festeggiamenti, ma anche una nuova settimana di allenamento in vista della trasferta di domenica a Verona. La partita di domenica sarà un appuntamento importante perché saremo in trasferta, incontreremo una squadra sicuramente preparata, una squadra che arriva da una sconfitta, quindi sicuramente vorranno rifarsi da questo risultato negativo. Noi dalla nostra parte abbiamo un risultato positivo, ma anche una settimana di riposo, quindi bisogna ricominciare un pochino tutto da zero, continuando sulla linea d'onda che abbiamo seguito fino ad adesso, per poi prepararci e arrivare a fare una grande partita di nuovo con la Lazio in casa. Con la Lazio giochiamo spesso direi, abbiamo fatto l'ultima di campionato anno scorso, siamo ripartiti con la Coppa Italia proprio contro la Lazio, ci ritroviamo alla terza di campionato contro la Lazio, quindi effettivamente negli ultimi tre mesi abbiamo avuto tre partite importanti, la prossima sarà sicuramente altrettanto importante per noi. Tutte le partite sono importanti, molto importante per la nostra fase di sviluppo, giorno per giorno, settimana per settimana, sempre facciamo piccoli momenti, passi di sviluppo e quello siamo tutti con la stessa mentalità e questo è veramente bello.